8 milioni di euro per finanziare circa 700 piccole e medie imprese abruzzesi grazie a fondi europei. L'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha presentato un nuovo avviso pubblico sul microcredito. Con Quaresimale il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta, perché sarà Abruzzo Sviluppo a dare attuazione alla misura, il direttore del Dipartimento Lavoro Claudio Di Giampietro, il dirigente del Servizio Lavoro Pietro De Camillis. Si tratta di prestiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro da restituire in 60 mesi con diverse particolarità. 8 milioni che abbiamo recuperato dalle rinvedienze dell'FSE microcredito, quindi sicuramente una misura per piccole e medie imprese, ma anche professionisti, che va a aiutare in un momento difficile post-Covid. La particolarità di questa misura è che va con un prestito dai 5.000 ai 15.000 euro, sono finanziamenti a tasso zero. La particolarità è che va incontro a tutte quelle aziende che non possono prendere dei prestiti nelle banche, quindi questo finanziamento viene elargito senza garanzie personali, patrimoniali e reali. Quindi sicuramente è una misura che vogliamo dare a queste imprese che hanno questa esigenza, quindi sono molto soddisfatto. Sarà gestito da Abruzzo Sviluppo, che sicuramente sarà molto serio nell'istruttore delle pratiche. In questo caso ci sarà il supporto della società in house Abruzzo Sviluppo per cercare di accelerare le procedure, in modo che questi soldi possano essere allargiti al più presto perché c'è un bisogno immediato. Una misura molto importante per l'assessore che fornirà liquidità alle aziende, si accompagna ad altre azioni messe in campo dalla regione, sono somme recuperate nell'ambito del Fondo Sociale Europeo. Il coinvolgimento di Abruzzo Sviluppo è fatto proprio nell'ottica di snellire le procedure, un modo per sostenere quelle imprese, anche le più piccole, che hanno sostenuto anche costi importanti a causa del Covid.